Finalmente ci siamo. Quella è la parte d'Italia che dovete sottomettere se volete raggiungere la Sicilia, altezza. E che mi dici di Roma? Si trova proprio nel mezzo. Non credo che sarà molto facile. Roma è debole e malata. Dovrete solo pazientare un po'. Mi chiedo quante altre città ancora dobbiamo distruggere prima che accettino il dominio dell'Ipero. Una soltanto, signore. Distruggete Milano. E tutte le altre città ve le ranno come pecore spaventate e desiderose di obbedire al loro pastore. Milano. 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 Il comune di Parma saluta l'imperatore. Il comune di Cremona saluta l'imperatore. Il comune di Padova saluta l'imperatore. Il comune di Ferrara saluta l'imperatore. Mi chiedo, cos'è più forte per questa gente? La volontà di combattere per l'impero o contribuire alla distruzione di Milano? Sono pecore, Reinaldo. Non hanno bisogno di pensare. Tutto quello che devono fare è obbedire all'imperatore.